Buonasera dallo Stadio Olimpico dove sta per iniziare l'ottavo di finale di Coppa Italia Roma Cremonese. Verticale per Lukaku, quindi Belotti punta il limite, Belotti uno contro uno, palla sul destro la botta di Belotti, buona ma alta. Eccolo il destro, la parata di Jungdall. Ghiglione verticale per Sagiutti in area di rigore, attenzione palla dentro, salvataggio di Zeki Celic. Il cross in mezzo, Lukaku non ci arriva, Belotti si respinto, poi Pellegrini traversa e la respinta definitiva di Jungdall nel calcio d'angolo. Sventagliato a destra dove c'è Ghiglione, dietro al Sharawi che chiude la diagonale, prova a servire Pellegrini, non lo trova, attenzione Ghiglione, Sombrero, Chireghe in area di rigore, il tiro e il gol. Nella Cremonese. Pellegrini dentro verso Belotti, in area, Belotti il tiro! Mediato da Tuglia, calcio d'angolo. Un po' di Reghe, il verticale, il pallone Zanimacchi, attenzione c'è anche Sernico, il tiro a giro fuori. Si accentra di bala, al vertice, zona tiro, di bala, dentro per Lukaku, 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 la parata di Jungdall. Punta il 17, si accentra il Sharawi, tiro, palo! Ancora il Sharawi, al limite, il tiro alto, ha provato il cost to cost e c'è quasi riuscito. Eccolo il cross in mezzo, sfida il pallone fuori, poi il tiro di Paredes, deviato, calcio d'angolo. In mezzo Asmoun Lukaku, palla per Asmoun, dentro verso Lukaku, Lukaku, Lukaku! Prendiamo il pallone, Roma 1, Cremonese 1, il gol di Romelu Lukaku. Spinazzola a linea di fondo, Spinazzola ancora finisce a terra, rigore, 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 calcio di rigore. Schiappere, vai Paolo, va di bala, sì! 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 Il gol di Paolo! Pellegrini rinvia, verso di bala, non c'è nessuno in porta, palla del Sharawi. Uno contro uno a tutto campo, poi Stefan contro Maier, il tiro da centrocampo di Stefan, fuori, fuori. Ma non c'è più tempo, fischia Pairetto, vince la Roma, Roma 2, Cremonese 1.